Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 ottobre. Sarà particolarmente ristretta perché oggi sui giornali c'è soltanto una notizia, cioè quello che è l'atteggiamento dell'Europa nei confronti della manovra italiana, che in realtà non è ancora una manovra perché la manovra non esiste, e non esiste secondo alcuni neanche il documento economico e finanziario con i saldi, perché nessuno lo ha visto. Tutti i giornali parlano della dichiarazione ovviamente di Juncker che dice più o meno l'euro è a rischio. Moscovici, l'altro ministro, quello degli affari economici, dice esattamente la stessa cosa. Cioè stiamo parlando di un atteggiamento dell'Europa molto duro, molto netto, nei confronti dei primi numeri tirati fuori dal ministro Tria, che ieri è volato all'Eurogruppo, cioè la riunione dei ministri economici che fanno parte dell'euro, e oggi sarebbe dovuto stare all'Ecofin, cioè la riunione economica di tutti i ministri che fanno parte dell'Europa, quindi un numero più largo rispetto a quelli dell'euro. Intanto uno riesce a pensare tutte le riunioni che ci sono, quante palle che si devono fare questi poveracci, la riunione dell'Ecofin, la riunione dell'eurogruppo, e andarla a spiegare all'uno e all'altro, insomma una specie di casino mostruoso. Ma comunque non è questo il punto. Il punto è che l'Europa ha deciso, nei suoi rappresentanti più forti, in maniera esplicita di parlare dell'Italia dicendo che la manovra non va bene e che se l'Europa non fosse rigida l'euro sarebbe al rischio. Ovviamente tutti i giornali ne parlano, io una considerazione sola mi sento di fare, ma secondo voi questi tecnocrati, e non c'è un insulto nella parola tecnocrati, che sono pagati e sono messi in Europa per essere custodi dell'euro, fanno bene all'euro dicendo che uno dei soci fondatori dell'Europa e dell'euro può compromettere l'esistenza dell'euro? Fanno bene a fare quello che hanno detto ieri, facendo schizzare in alto lo spread, che è evidente quello che è successo ieri, io non penso che ci sia un complotto, ma alimentando l'incertezza dei mercati e soprattutto aiutando gli investitori a disinvestire l'Italia per evidenti motivi. Il primo motivo è che la manovra fa schifo, ma il secondo motivo è che gli stessi custodi dell'euro dicono che l'euro è il rischio. Insomma qua mi sembra che ci sia un concorso di colpa per quello che sta avvenendo oggi sui mercati. Giordano dice, secondo me è un po' avventuroso il suo pezzo oggi sulla verità, i catastrofisti sono stati sconfitti, i catastrofisti dei mercati, in realtà bisogna stare molto attenti quando si ha a che fare con i mercati, perché se alzano Juncker o anche un ministro italiano e la dice grossa, i mercati prendono direzione completamente diversa. Europa scatena lo spread per far cadere il governo, è molto dritto il fatto. Io penso che questa volta un elemento sovrappiù nelle dichiarazioni di Juncker e di Moscovici, in quelle di Juncker che è sempre molto difficile capire quando è sovro nelle sue dichiarazioni, secondo me ci sono. C'è un altro elemento fondamentale di questa vicenda, perché se c'è una vicenda diciamo europea, che è una vicenda di sciatteria o una vicenda di, come possiamo dire, di malafede in alcuni casi, dall'altra parte però c'è anche una situazione italiana molto ingarbugliata, oggi lo dicono in molti, per il messaggero addirittura cambierebbe la manovra, la cosa fondamentale è che non esiste ancora questo documento economico e finanziario, esiste un numeretto 2,4% ma non si riescono a vederne i contenuti, oggi tutti i giornalisti che si occupano di queste vicende finanziarie sanno che questo centinaio di pagine del documento economico e finanziario in genere viene pubblicato sul sito, si legge, lo abbiamo, nessuno di noi ce l'ha e bisognerebbe un pochino capire che cosa c'è scritto veramente in questo documento e per il momento non lo facciamo. Il primo giornale è libero, curiosamente con lo stesso titolo, si occupano di una cosa se volete un po' particolare che vi può apparire diciamo di contorno, cioè il fatto che il reddito di cittadinanza andrà anche ai Rom, ma non è di contorno, perché non è di contorno? Perché la vicenda che può essere più o meno interessante, chi se ne frega se vai ai 5.000 Rom, è l'idea che questo reddito di cittadinanza siano quattrini nostri, cioè la cosa io ovviamente sono fermamente convinto, cioè che si tassi una collettività per far arrivare dei soldi a persone che non è detto che quei soldi se li meritino affatto. Io l'idea di andare a dare un reddito di cittadinanza a un campo Rom qua vicino non so se è una di quelle cose che più condivido per il semplice motivo che li vorrei prima nella legalità e poi dopo magari cerchiamo di capire come e dove sostenerli. Ma l'idea che questo reddito di cittadinanza possa diventare un sussidio nei confronti di tanti e soprattutto di tutti, mi sembra una cosa folle, tra l'altro un sussidio che costerà alle nostre casse 10 miliardi di euro. L'altra questione che io vi sottolineerei oggi, che non ce l'hanno i giornali italiani, ma è una specie di bomba, una bomba, è la Migration Revolution, che è il titolo del Daily Mail, il giornale popolare inglese, che oggi svela il piano del ministro degli interni inglese sulla accoglienza nei confronti degli immigrati. Per loro gli immigrati siamo anche noi! Ognuno è immigrato da qualche altra parte, bisogna ragionare. Allora che cosa pretende il ministro degli interni inglesi? Innanzitutto che si riconquistino i loro confini, già sentito anche in Italia, che chiunque entri in Inghilterra non può non aderire ai cosiddetti valori inglesi. E' una cosa che forse, non so quanto, fino ad oggi è stata accettata, soprattutto in certe periferie inglesi, che sembra di vivere in Pakistan o in paesi che non sono esattamente quelli da cui ti immagini nasca l'Union Jack. E l'altra cosa che dice incredibile è che le aziende inglesi devono assumere prioritariamente lavoratori inglesi. Insomma, British First, abbiamo sempre preso per i fondelli Trump, adesso sta arrivando, io non sono assolutamente convinto che questa sia la soluzione, io penso che un mondo di frontiere aperte, nel senso sano delle frontiere, cioè se tu vuoi lavorare è giusto che tu vada da un posto all'altro e ci si riacchisce, ovviamente, anzi le competenze di paesi diversi fanno ricchi paesi tipo l'America. Ma il punto fondamentale è che l'esagerazione evidentemente del passato ci porta oggi a una reazione fortissima dei governi non solo conservatori, diciamo, europei, ma anche quelli inglesi che sono, secondo me, la patria della democrazia e della libertà. Questo oggi lo leggiamo sul Daily Mail, lo vedremo domani, il piano non tanto segreto ma che verrà svelato dell'accoglienza ristretta della Gran Bretagna su tutti i giornali domani. L'altra cosa di oggi che è sconvolgente, sconvolgente, è di poche ore fa, è stato arrestato alle prime luci dell'alba, come si scrive bene nelle agenzie di stampa, il sindaco di Riace. Ci avevano fatto due palle così, ma veramente due palle così, in questo io capisco Salvini che è subito twittato contro Saviano e Company Repubblica, dicendo il sindaco dell'accoglienza, quello che aveva permesso, un'accoglienza intelligente degli immigrati nelle loro case deserte di Riace, avevano messo gli immigrati, eccetera, eccetera. Beh, insomma, e qua c'è Carolina che dice che il 4% che abbiamo fatto ieri è un flop, è una cretina, chiaramente. Abbiamo fatto un risultato pazzesco, ieri anzi ringrazio tante persone che ci hanno seguito perché voi rendetevi conto che il lunedì contro Grande Fratello è la prima serata di Rai 1, questa è una parentesi che apro e poi chiudo, il successo di una trasmissione che è appena nata, secondo me, e secondo quello che ho sentito stamattina da tanti amici, possiamo fare sempre molto meglio, ma è stato un risultato straordinario, quindi vi ringrazio a tutti quanti tranne questa cretina che ogni volta si diverte, era un flop anche virus, me lo ricordo sempre, c'è sempre qualcuno che deve rompere le palle di prima mattina, arrestato il sindaco di Riace e il motivo è favoreggiamento dell'immigrazione e fraudolento affidamento diretto della raccolta dei rifiuti. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire una cosa molto, diciamo, controintuitiva, l'idea che venga arrestato il sindaco di Riace dove non c'è neanche uno scambio di un euro, cioè nessuno l'ha accusato a lui di rubare una lira, è una cosa che mi fa un po' impressione, io andrei sempre piano con gli arresti, ma pare che questo ad esempio con la sua compagna facesse dei matrimoni combinati, cioè facesse finta che due immigrati si amavano per poter riuscire a metterli in regola e anche per quanto riguarda la gestione di alcune risorse che lo Stato forniva loro, veniva fatto attraverso operazioni concoperative non del tutto chiare. Allora, il punto qual è? Il sindaco di Riace è un simbolo di niente, ci avete rotto le palle per anni dicendo che questo è il simbolo dell'accoglienza, non è un simbolo dell'accoglienza, è un simbolo di un piccolo paese con una persona che in maniera direi molto diretta gestiva questo paese. Benissimo, ci può anche stare. Trovo che sia eccessivo arrestare una persona per quello che ho letto oggi sul giornale, arrestare e mettere in galera anzi due arresti di domiciliari, togliere la libertà a una persona per un motivo di questo tipo. Quello che cerco di dire in maniera molto liberale è ragazzi, calmi tutti. Io quando vedo una persona che si arresta non godo, soprattutto sulle basi di quello che ho letto. Dall'altra parte non penso che il modello di accoglienza italiana come ci hanno spiegato Saviano e tutti sti cazzarola di legalitari italiani sia il sindaco di Riace che faceva i matrimoni combinati. Ci può stare? Ci può stare ai nostri mostri della legalità spiegati che non è questo il modello della legalità? Beh, io direi che forse ci sta. Quindi, lo hanno arrestato, spero che lui si possa difendere. La cosa certa è che qua tutti questi grandi simboli dell'accoglienza, il sindaco di Lampedusa, il medico di Lampedusa, il sindaco di Riace, il fuoco a mare, per cui abbiamo costruito questa straordinaria retorica dell'Italia, il migliorino, come si chiama di Milano che fa le manifestazioni per l'accoglienza nei paesi più accogliente che ci sia, sono appunto i giganteschi bolle di ipocrisia che in alcuni casi, come nel caso di Riace, sono anche piccole bolle di illegalità, perché quell'accoglienza viene fatta violando le regole di questo paese. Non si capisce perché nessuno le debba violare tranne quelli che sono un po' accoglienti. Renata, buongiorno anche a te, Katia, Françoise sempre presente, Auga tutti quanti voi, io vi do appuntamento come sempre a domani con la zuppa di porro, mercoledì parte Matrix, un altro grandissimo programma che spero che voi riusciate a guardare perché mercoledì ci sono delle notizie e delle inchieste fenomenali, compreso Forteto che voglio mettere in campo o questo mercoledì o il prossimo, ma comunque io penso proprio questo mercoledì, quindi state tutti quanti attenti perché la zuppa continua. Ciao!